Chi ti ha dato 200 euro? Me li ha dati un signore. Quale signore? Non so chi sia. E perché te li ha dati? Perché stamattina l'ho visto davanti a una casa di appuntamenti e gli ho detto so cosa hai fatto e lui mi ha dato 100 euro. E gli altri 100? Oggi pomeriggio ho visto lo stesso signore che stava entrando in casa sua e io gli ho detto adesso so anche dove abiti e lui mi ha dato altri 100 euro. Sei cattivo, non si ricattano le persone. Adesso vai in chiesa, ti confessi e doni quei 200 euro. Ancora tu? Ah ah, adesso so anche dove lavori.